Con l'allentamento delle misure contro il coronavirus riprendono al Lido i lavori di asfaltatura delle strade. Riprendono questo tipo di lavori come tanti altri, la darsena agli alberoni, la piantumazione degli alberi. Qui siamo in via Sandrogallo e procediamo con il lavoro di asfaltatura delle principali arterie del Lido. Sono lavori straordinari, un piano di asfaltatura che non era mai stato fatto in quest'isola. Adesso col bel tempo è ripreso questo lavoro, qui siamo vicino appunto a Cabianca. Poi verranno fatti altri lavori in Gran Viale, in Riviera Santa Melisabetta e in altri punti strategici del Lido per riparare le strade e dare maggiore puibilità sia alle automobili che alle biciclette.